Lei ha detto che bisogna fare misure shock per dare lavoro ai cittadini, cosa intendeva? Bisogna partire dalle considerazioni che senza impresa non esiste lavoro, sembra una considerazione banale ma purtroppo in questi anni molti hanno dimenticato che le nostre attività produttive sono il motore principale delle capacità occupazionali del Paese, per questo le esigenze espresse dalle aziende sono quelle che la politica deve impegnarsi a rispettare, prima fra tutti la tassazione che è eccessiva nel nostro Paese, non permette di competere non solamente con stati per esempio asiatici ma nemmeno con vicini stati confinanti europei, in Frivenenza Giulia per esempio confina con la Slovenia, teniamo conto che la Slovenia ha il 34% di pressione fiscale complessiva nel nostro Paese arriviamo al 68%, in Austria al 50%. È chiaro quindi che diventa improponibile per le aziende o investire nel nostro territorio, tantomeno rimanere sui nostri territori. In secondo luogo è necessario riaprire i crediti delle banche alle imprese, secondo fattore fondamentale perché le aziende possono continuare a produrre. Terzo problema è il credito della pubblica amministrazione che nel nostro Paese causa il patto di stabilità, non permette di erogare i soldi dovuti alle imprese private che hanno lavorato per la pubblica amministrazione. Questi sono i tre fattori determinanti che servono a rilanciare impresa e quindi ridare opportunità occupazionali a giovani e a chi ha perso il lavoro. Tutto il resto è importante ma viene dopo.